Si è svolto a Grottaglie promosso dalla BCC di San Marzano un focus sul PSR, piano di sviluppo rurale della regione Puglia. Argomento di estrema importanza e attualità nel momento in cui è a rischio una delle principali risorse dell'agricoltura e quindi dell'intera economia regionale, l'olivicoltura afflitta dalla xylella. Mentre le misure europee si inaspriscono nei confronti dei produttori di olio, un sostegno può arrivare proprio dalle misure del PSR 2014-2020. Misure che puntano innovazione, qualità e inserimento dei giovani nel campo dell'agricoltura. Con l'olio la Puglia eccelle anche per vino, agrumi e allevamenti di bestiame, tutte risorse essenziali all'economia regionale. Lo sanno bene le banche. Giuseppe Mi, direttore servizio clienti della BCC San Marzano. Una banca locale non può essere assente. Credito cooperativo di San Marzano ha sempre seguito il settore che ha dato comunque soddisfazioni importanti. Oggi segnali importantissimi di ripresa vengono proprio da questi settori. I lavori sono stati conclusi dall'intervento dell'assessore regionale al ramo Fabrizio Nardoni. Nei confronti del sistema olivicolo dovevamo costruire un percorso nuovo al di là del problema che in questo momento si chiama xylella. Avevamo necessità di avviare lo stesso percorso che già è stato fatto da tempo nei confronti del sistema olivicolo. Il sistema olivicolo è stato possibile.